Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, dove a breve il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiderà la Santa Messa in occasione dei 55 anni della comunità di Sant'Egidio. Questa Messa sarà seguita da altre celebrazioni negli oltre 70 paesi in cui è presente Sant'Egidio, dall'Europa all'Africa fino all'Asia e all'America, sempre all'insegna della solidarietà, della preghiera e dell'impegno per la pace. Grazie per la visione! Numerosi presenti nella Basilica di San Giovanni in Laterano, oltre alle autorità e i rappresentanti del mondo della Chiesa, ci sono i senza tetto, anziani, persone con disabilità, ma anche immigrati e rifugiati venuti in Italia attraverso i corridoi umanitari gestiti dalla comunità di Sant'Egidio. E non mancano poi i profughi ucraini, un popolo simbolo delle sofferenze del mondo in questo momento, segnato anche da altri conflitti e ora da questa immane catastrofe rappresentata dal terremoto in Siria e in Turchia. Grazie! 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 Tutto pronto nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, dove a breve il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiderà la Santa Messa in occasione dei 55 anni della comunità di Sant'Egidio. Grazie! 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Allora i giochi vedranno, le orecchie dei sordi si apriranno. Lo topo salterà nella gioia, canterà la lingua del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Scorcheranno le acque nel deserto, e lucelli nella terraanita ci sarà una strada appianata. Il Signore ritondurrà il suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sordi e rispetti in te, tu sarebbe, e tutta la tua luce, lo splendore del Signore su di te. E tra i nebri conclirà la terra, lo scurirà le nazioni, ma su di te risplenderà il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, che sei la pienezza di verità e grazia, Cristo che ti sei fatto povero per arricchirci, 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 Cristo che sei fatto povero per arricchirci, Cristo che sei fatto povero per arricchirci, Cristo che sei fatto povero per arricchirci, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Signore figlio di genito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbia misericordia di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo è l'Altissimo Dio Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria mio, Padre. Preghiamo. O Dio, Padre di ogni dono, da Te discende tutto ciò che siamo e abbiamo. Insegnaci a riconoscere i benefici della Tua immensa bontà e ad amare Te con tutto il cuore e con tutte le forze. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini Fratelli, ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così, Egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in sé stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero Andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi, alle tue porte, Gerusalemme. E' la che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. E' la che salgono le tribù, le tribù del Signore, per lodare il Signore. Sia pace nelle tue porte, sicurezza nei tuoi patassi. Per i miei fratelli, per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Andremo con gioia alla casa del Signore. Alleluia. 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 Grazie a tutti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo sfido. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Andate, eccovi, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il Regno di Dio. È parola del Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Eucaristia è sempre ringraziamento, il più completo, per certi versi ancora di più delle nostre parole, perché ci unisce con il Signore e tra di noi e riveste le nostre povere persone della luce, dell'amore pieno di Dio, della sua presenza nell'incertezza e nella confusione della nostra vita. E oggi sentiamo tutti, sia personalmente, sia come comunità, la gioia di ringraziare il Signore per l'amicizia che ci unisce, per questi anni di amore, di legame gratuito e circolare. Tutti lo riceviamo e tutti cerchiamo di donarlo. E non si deve interrompere. Ne godiamo, infatti, davvero tutti, quelli della prima come quelli dell'ultima ora. Anticipo della casa di quel Padre che vuole tutto ciò che è mio e tuo. Un caro amico della comunità, Valdovinai, valdese, che condivise negli anni della sua vecchiaia il cammino dei nostri inizi, fece sua l'espressione che aveva ascoltato da un giovane. Qui l'amicizia non finisce mai. Lo diceva anche per sé, credo, e credo che possiamo dirlo ognuno di noi. Non è finita, anzi, si è rafforzata, affrontando da sempre le tante pandemie di povertà, di sofferenza, le incertezze della nostra vita, le tante gioie che il Signore ci ha donato. E la comunità si è sempre fatta vicina alle ferite che segnano le persone, i poveri. Iniziò alle baracche del Cinodromo, il primo servizio della comunità, non spettendo poi di cercare i tanti e spesso enormi Cinodromo delle città degli uomini, ovunque. Quante sofferenze, quante lacrime, il grido di pace di interi popoli ha trovato in questa arca di Noè ascolto, protezione, compagnia, luce, calore, speranza. Non ha mai smesso di cercare una soluzione nei tanti diluvi, ben diversa da compiaciute e facili dichiarazioni e commozioni un po' digitali, da spettacolo. Sant'Egidio, consapevole che la soluzione non dipende mai solo dalla nostra decisione e dal nostro sforzo, non ha smesso di cercarla con tutto se stessa e di chiederla nell'intercessione della preghiera. Gli occhi brillano di luce perché asciugano le lacrime di chi soffre, diceva Madre Teresa. La comunità brilla di amore perché ha pianto con chi è nel pianto, ma ha anche sentito la consolazione dei tanti sorrisi restituiti, delle tante solitudini sconfitte, delle tante divisioni che hanno trovato la ricomposizione tutto anticipo della beatitudine di Gesù che non finirà. E la misura non è mai stata quello che si poteva fare, ma quello che serve fare. Tutti noi a volte sperimentiamo, anche con amarezza, quando i ritardi sono colpa degli uomini, la nostra fragilità è colpa nostra anche, no? La nostra fragilità è il nostro limite, ma senza rinunciare a cercare le risposte. E' successo così in tanti fatti, ricordo per esempio quello dei corridoi umanitari, che hanno aperto il muro impenetrabile del non c'è niente da fare, si può solo aspettare. E migliaia di persone che lo aspettavano hanno avuto futuro. Poche? Ma chi salva un uomo? Un uomo salva il mondo intero, perché ogni persona è un mondo, unico e insostituibile. E ricordiamoci sempre e per tutti anche che chi perde un uomo perde un mondo intero. E questi anni, i tanti fatti ci confermano che è sempre possibile amare la vita, difenderla, insomma cambiare questo mondo perché la fraternità sia reale. E anche che tutti possono farlo e farlo riempie di felicità, libera dalla tristezza o da un amore ridotto a adrenalina, poi finisce. O te ne devi cercare sempre un po' da qualche altra parte. La voce persuasiva del falso realismo ripete continuamente di lasciar perdere, di pensare che non vale la pena, rende vane energie e sciupa tanti mezzi e possibilità, tanti. E speriamo davvero che in questo tempo, così segnato dalla sofferenza, in questo tempo di piani per il futuro, sappiamo costruire qualcosa che resta, solo se va oltre di noi e se è per gli altri. La bellezza di questa celebrazione allora, che raduna non solo i numerosi presenti, e ringrazio i tanti che si sono voluti aggiungere, essere con noi, ma anche le tante comunità sparse nel mondo, dai piccoli e sperduti villaggi dell'Africa, penso a quelli del Congo, visitato recentemente da Papa Francesco, segnati dalla violenza, penso alle tante comunità in Ucraina e in Russia, che nella tempesta della guerra non hanno smesso di aiutare i più deboli, rassicurare e sfamare gli anziani, chi vive per strada, i bambini delle scuole della pace. Preghiamo e ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle che sono in situazioni difficili, di rischio o di minoranza, e li ringraziamo. Per l'esempio di umanità, che offrono nelle loro situazioni, mostrando la vita cristiana e lo spirito della comunità. Continuiamo tutti ad accendere luci di speranza e a mostrare un mondo migliore quando intorno c'è il buio della violenza, della guerra, della solitudine, dell'insignificanza. Scegliamo tutti di essere operatori di pace, di conservare, cioè, un cuore umano, di agnello, anche quando il mondo diventa lupo e crede solo nelle armi e non sa più trovare umanità e dialogo. Gettiamo semi di un mondo diverso per iniziare già oggi, dove siamo, il nostro cessate il fuoco, disarmando le mani e le menti, riempiendole di sentimenti e di legami di amore. Perché la guerra spegne anche i sogni e gli slanci e possiamo dire che le comunità di Sant'Egidio li riaccendono, li difendono, un germoglio di pace che continua a fiorire, anticipo della pace che può far rifiorire la vita. Allora Sant'Egidio tutto è un popolo di operai di pace, perché avvicina i cuori, combatte le barriere, abbatte i muri, costruisce luoghi dove, fratelli tutti, non è solo una visione grande, ma la realtà di comportamenti e di parole. Ringrazio di cuore gli sforzi intelligenti e pazienti per tessere la pace in tanti luoghi, tanti conflitti, tanti, come quelli, ricordo l'ultimo, in Sud Sudan, a volte conflitti tanto lunghi, potremmo dire interminabili, la fatica di tessere la pace, come lo sono le guerre, e con la tenacia esattamente contraria alla logica della guerra. Aveva ragione San Giovanni Paolo II parlando alla comunità, non vi siete posti altri limiti se non la carità, e in questo identificava un carattere di Roma, della Chiesa di Roma. E la carità è infaticabile, ma non perché non prova stanchezza, ma la vince, per l'amore, per l'amore stesso. E ringrazio, e ringraziamo Andrea, che non smette di lottare con inquietudine e intelligenza contro le tenebre del male. Lo ha fatto all'inizio e continua a sognare di cambiare il mondo perché ascolta Dio e la sua passione per le messi. Ha visto il giardino anche quando c'era solo il deserto. Grazie, Andrea. Cristo è pace perché ha abbattuto il vero muro di separazione che divide e genera la guerra e l'inimicizia. E Sant'Egidio è diventata una famiglia universale, davvero senza confini, che come una madre non dimentica nessuno. E ringrazio anche di cuore chi si affanna perché questa madre mostri la sua maternità ovunque, che giunga dappertutto, ad iniziare da Marco e da tutta la presidenza della comunità e dai responsabili. E ricordiamoci sempre di pregare per ogni comunità e anche per chi la serve nella comunione e nell'unità. Siamo un popolo di poveri e di umili, di vecchi e di giovani, di fratelli più piccoli e di fratelli che si fanno piccoli e così diventano tutti grandi. Siamo operai che possono sempre ed è una grazia in tutte le stagioni della vita ed è davvero una grazia lavorare per il Signore e quindi per il prossimo in tutte le stagioni e in tutte le condizioni. Nella comunità riprendendo un'espressione di Monsignore del Del Camara non c'è mai nessuno abbiamo imparato che non c'è mai nessuno che è così povero da non aiutare qualcuno più povero di lui. Papa Benedetto infine con tanta delicatezza e profonda comprensione umana disse al termine del pranzo alla mensa di Via Dandolo che nella comunità non si distingue chi serve e chi è servito. Felicità per l'uno e per l'altro. Infatti è un noi aperto e preciso allo stesso tempo accogliente e mai anonimo perché il noi non solo non cancella l'io non lo limita ma anzi lo scioglie dall'egoismo e dal pensare di essere se stesso perché isola non lo deprime anzi lo esalta perché lo rende utile e si è utili per davvero quando si è gratuiti solo per amore ecco per questo è un noi così pieno di vita siamo sulla stessa barca senza compromessi con la radicalità del Vangelo cercando sempre il bene possibile ma senza dimenticare di credere nell'impossibile perché la messa è davvero grande e la sofferenza che la attraversa è terribile fa soffrire quando sentiamo questa sofferenza siamo spinti a coinvolgere altri operai a continuare a chiedere altri operai che se diventano oziosi è perché nessuno li ha presi a giornata non perché non vogliono lavorare e la gioia è lavorare per amore in questa messe ed è la parola di Dio che continua a chiamare e a mandare ed è la parola di Dio che ha custodito la comunità perché non smette di renderci sensibili ai sempre nuovi aspetti di povertà e anche a capire in modo sempre nuovo e profondo i vecchi ed è la parola che permette di vivere ogni incontro come anticipo di quello che ritroveremo pieno in cielo e la comunità è sempre piccola siamo sempre pochi di fronte alla grande messe siamo sempre il piccolo gregge minoranza che non smette di generare vita ma che è già oggi un popolo largo e il passare del tempo non ha fatto crescere il sottile scetticismo o dei meccanismi sclerotizzati ma la passione del Signore continua a indicarci il lavoro nella grande messe del mondo ecco la benedizione e la preghiera di questa sera come quella con queste parole che per tanto tempo ha accompagnato la preghiera della sera signore nostro Dio che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra città paese perché nella carità renda a te un culto gradito custodisci il greggio che hai radunato conservano nel tuo nome ora e sempre Amen Grazie fratelli carissimi raccolti nella Santa Assemblea per celebrare i misteri della nostra redenzione supplichiamo Dio Onnipotente perché il mondo intero sia lavato e rinnovato a queste sorgenti di ogni vita e benedizione Per la comunità di Sant'Egidio perché comunicando il Vangelo in questa nostra città e ovunque nel mondo sia portatrice di pace concordia riconciliazione in ogni luogo dove vive e prega preghiamo perché nella gioia e nella gratitudine di questa festa cresca il dono della fraternità per quanti ci sostengono nell'amicizia e nella preghiera per la benedizione e la protezione della vita dei più poveri e di tutti preghiamo perché ci si impegni a cercare e a sperare nella pace perché l'umanità guarita dall'odio e dai disegni di male torni a essere una famiglia di popoli preghiamo per Papa Francesco perché il Signore lo protegga per i frutti del suo viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan paesi travagliati a noi tanto cari per i pastori della Chiesa preghiamo per l'Italia per Roma perché crescano la coesione sociale le responsabilità verso i più deboli il senso del bene comune per la Chiesa in Italia e per il Cardinale Matteo Zuppi preghiamo per i giovani perché vivano con entusiasmo la forza dei sogni del Vangelo per gli anziani che chiedono adozione nell'amore perché accogliendo e integrando quanti cercano nel nostro paese futuro e sicurezza cresca la fraternità preghiamo per le popolazioni drammaticamente colpite dal terremoto in Turchia e in Siria per le vittime perché il Signore le accolga nella sua misericordia per il soccorso dei feriti e degli sfollati perché cresca la risposta solidale di tutti preghiamo O Dio nostro Padre assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede per Cristo nostro Signore di Turchia e L'immagine e l'immagine e la dignità Vivi, fii, cante, cante, amo, ritmo tristario. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, all'Ode e gloria del Suo nome, per il bene nostro di tutta la sua famiglia. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode per i benefici che ci hai elargito e ti chiediamo che i doni da Te gratuitamente ricevuti diventino azione di grazie a gloria del Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amo. Il Signore sia con voi. E con voi. In alto i nostri cuori. Sono in alto il Signore. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È una cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere, annunciò al mondo che Tu sei Padre e Ti prendi cura di tutti i Tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, 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 santo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua restrezione nell'attesa della tua riportazione. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il suo Vicario Angelo e il Vescovo Matteo, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri, apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i diffunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita e della risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli apostoli e i martiri, Sant'Egidio e tutti i santi, per Gesù Cristo tuo figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ammettili a tutti i secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è bene, tu è la potenza e la storia. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il nostro Signore. Nel nome del Signore ci scambiamo il dono della pace. La pace. La pace. E pace, 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 ci scambiamo. Salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor di corti. E pace, 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 a chi è turmato, al povero, al piangante, al amato. Agnello di Dio. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, donano la tua pace. ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, o Signore, o Signore, o Signore, o Signore, ma di soltanto una parola di Dio che toglie i peccati del mondo, ma di soltanto una parola di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù aveva detto ai suoi vidi la pace, Gesù aveva detto ai suoi vidi la pace, lo Spirito Consolatore io vi manderò, lo Spirito Consolatore io vi manderò. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore che il mondo cambierà. Lo Spirito ci insegnerà tutte le cose, lo Spirito ci insegnerà tutte le cose, e di Gesù ogni parola ci ricorderà. E di Gesù ogni parola ci ricorderà. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore che il mondo cambierà. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore e il mondo cambierà. Comunichiamo questa gioia a tutto il mondo. Comunichiamo questa gioia a tutto il mondo. e un popolo senza confini noi saremo. E un popolo senza confini noi saremo. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore e il mondo cambierà. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore e il mondo cambierà. La forza c'era da Gesù col suo vangelo La forza c'era da Gesù col suo vangelo E' bella la comunità e la rendiamo grazie. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore e il mondo cambierà. Vieni, Signore, con il tuo Spirito manda il tuo amore e il mondo cambierà. E il mondo cambierà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venite e prendete la luce, alla luce che non finisce. Il tuo giorno non conosce la notte. Venite e prendete la luce, alla luce che non finisce. La tua luce, alla luce che non finisce. Venite e prendete la luce, alla luce che non finisce. Venite e prendete la luce. Non disdegnare nella difficoltà le nostre soppliche. Venite e prendete la luce. Venite e prendete la luce, alla luce che non finisce. Venite e prendete la luce, alla luce che non finisce. Venite e prendete la luce. Venite e prendete la luce. Venite e prendete la luce che non finisce. Venite e prendete la luce che non finisce. Venite e prendete la luce che non finisce. Cari amici e cari amiche, buonasera. È una gioia e un motivo di conforto essere in tanti questa sera per celebrare il 55esimo compleanno della comunità di Sant'Egidio. Ha molto senso farlo in questa Basilica Cattedrale di Roma, Omnium Ecclesiarum Mater et Caput. Sede del Vescovo di Roma, Papa Francesco, cui inviamo il nostro più affettuoso e filiale pensiero. Ringrazio il Cardinale Vicario De Donatis, arciprete di questa Basilica, di accoglierci, di averci accolto qui questa sera. La comunità è nata in questa Roma e nella sua non più breve storia ne porta i tratti della sua carità e universalità. Radicati in questa Chiesa, in questa città, a partire dalle sue periferie, abbiamo potuto allargare i nostri orizzonti e il nostro impegno al mondo intero. Un saluto al Sindaco Gualtieri. La presenza di tanti membri del Corpo Diplomatico, che ringrazio, che rappresentano tanti paesi in cui la comunità è viva e opera, ne è una testimonianza. Tale apertura universale ci ha messo in contatto con tante situazioni di dolore e di povertà e oggi sono lieto di salutare tra noi alcuni dei nostri fratelli e sorelle che ci hanno raggiunti dall'Ucraina. E li ringrazio per la loro resistenza e l'impagabile lavoro umanitario che stanno svolgendo in tante città ucraine da ormai un anno. Grazie. Dopo un anno di guerra ancora più forte si fa la domanda di pace. Su orizzonti aperti negli anni abbiamo incontrato quel grande continente che è l'Africa, con le sue ricchezze, le sue speranze e i suoi dolori. L'Africa è nel cuore della comunità e la sua storia è diventata la nostra. Siamo convinti che una visione euro-africana dovrebbe sempre più affermarsi tra i due continenti per garantire un futuro migliore per tutti. Trent'anni fa, proprio qui a Roma, dopo più di due anni di trattative, venne firmata per opera dalla nostra comunità la pace in Mozambico. Tra i mediatori di quella pace c'era insieme ad Andrea Riccardi Don Matteo Zuppi, oggi cardinale, che ha preseduto questa celebrazione e che vorrei ringraziare per le sue parole così profonde, partecipi, mentre auguro ogni bene a lui, ai Vescovi italiani e a tutti i Vescovi presenti. Vorrei salutare l'Avvocato Laura Mattarella, ringraziarla per la sua presenza e inviare attraverso di lei un deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica che sentiamo tanto vicino e di cui conosciamo la partecipazione con cui segue la nostra opera. Rivolgo un saluto rispettoso ai membri del Governo italiano, ai ministri italiani, Piantedosi, Valditara, alle forze di polizia, cui ribadiamo la volontà di continuare a collaborare a importanti programmi umanitari, sociali, educativi e di cooperazione internazionale, tra cui vorrei menzionare l'impegno per garantire una vita degna per tanti anziani soli o che vivono in solitudine nel nostro Paese. o il programma per recuperare i tanti bambini che vivono la dispersione scolastica o ancora il programma dei corridoi umanitari per i profughi realizzati insieme alla Federazione delle Chiese Evangeliche e alla Caritas Italiana con i Ministeri degli Esteri e dell'Interno. una buona pratica italiana, che speriamo presto europea, che sostiene quel carattere italiano di umanità che contraddistingue la nostra società. Saluto tante persone giunte in Italia con i corridoi umanitari, che oggi sono perfettamente integrate nel nostro Paese. e in particolare siamo vicini ai tanti amici siriani qui presenti, che soffrono per le notizie che giungono dal loro Paese. Esprimiamo a loro e ai cittadini turchi la nostra piena solidarietà. Un rabbino italiano ha manifestato in questi giorni la sua visione della comunità inviandomi questo messaggio, che cito I maestri ebrei immaginano che il suono dello shofar, il corno d'ariete che proclama la parola di Dio, raggiungesse ogni angolo del mondo. Ogni uomo riacquista in quel momento la perfezione morale insieme a quella fisica. I sordi riacquistano l'udito, i ciechi la vista, ogni malattia scompare per ascoltare i dieci comandamenti sul Sinai. Possiamo affermare, scrive il rabbino, che la comunità di Sant'Egidio rappresenta per il mondo intero la funzione di richiamo dello shofar, l'annuncio della parola per il miglioramento del mondo, essere consci della responsabilità collettiva del genere umano. Fin qui il rabbino. È questa responsabilità del bene che ci assumiamo come comunità da questa celebrazione per il tempo che viene. Non potete immaginare quanto il sostegno di ognuno di voi ci è caro ed è importante. Grazie dunque di accompagnarci con la vostra amicizia, il vostro sostegno e la vostra preghiera. Il Signore sia con voi. Chiniamo il nostro Capo al Signore per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risprendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, 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 cantiamo al Signore. Escutiamo di gioia, alleluia, alleluia. È risolto tra noi, ha vinto la morte, alleluia, alleluia. E ha vinto la morte, alleluia, alleluia. E ha mandato l'annuncio di niente, di gioia, alleluia, alleluia. Venite anche voi, cantiamo al Signore, alleluia, alleluia. Venite anche voi, cantiamo al Signore, alleluia, alleluia. Cristo è risorto per noi, felicità, perché Galilea crea di voi, risordi con noi. Il Signore è risorto per noi, il Signore è risorto, preghia per sempre. Il Signore è risorto, preghia per sempre. Partiamo, esutiamo, alleluia, 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 alleluia. Rappresentanti del governo, delle istituzioni della Chiesa, ma anche senza tetto, immigrati, profughi e rifugiati. Numerose le persone nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, che hanno partecipato alla Messa per i 55 anni della Comunità di Sant'Egidio, celebrata dalla Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Questo collegamento sta per terminare. Grazie per essere stati con noi attraverso la radio e la televisione. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi attraverso la radio e 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 la radio. Grazie per essere stati con noi.